ah giusto qua devo aprire perché eccolo qua eccolo qua il porco di corte il porco di corte Grazie a tutti. Soldato antico, erba calante, soldato antico. Soldato antico, erba calante, soldato antico. Proverai percorso più avanti, non si apre. E dice qua, cerca chiave. Soldato antico, erba calante, soldato antico. Soldato antico, erba calante, soldato antico. Soldato antico, erba calante, soldato antico. Soldato antico, erba calante. 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 Sto nel miraggio. Cazzo che ride. Pezzo di merda schifoso. Che no. Che fungono. 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 Grazie a tutti Per miracolo Andiamo a discendere da qua Poi forse la stessa cosa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Andiamo di qua Ma che cazzo Ma vaffan 13 Mi ha fatto cagare Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Mi avete fatto cagare Grazie a tutti Grazie a tutti Facciamo sti scuoli Grazie a tutti Puttana Puttana Noo, sono uno scemo Sono uno scemo Grazie a tutti 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 Noo Noo Grazie a tutti Grazie a tutti Questo Grazie a tutti 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 2-5 Grazie a tutti 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 Questa qua Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E adesso Grazie a tutti 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 Scudo Voglio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Non teme Forse Grazie a tutti 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 Prigione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Perché perché si Grazie a tutti Ti fa uno Ma che cazzo Sbaglio? Grazie a tutti 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 di arciari ti beccano ti beccano ma se ti sei qua li ti beccano e qua liscio porca troia che erroraccio lancialata c'è sta lancialata che io ovviamente non posso usare che non la posso usare requisiti e tributi non hai abbastanza forza no ce l'ho la ah no non ce l'ho faccio petare guarda è buono l'anello di rigenerazione perchè se stai un po' fermo puoi recuperare in poco tempo 1,6,2 sì non credo che mi raggiunga qua e qua necce non c'è non c'è qu'è Eccolo C'era di tutto addosso. Sì, ma se a un certo punto si tornano indietro. Sembra che prima sono arrivato qua, mi seguiva solo uno. Qua credo sicuro. Come? Io sono fuggita e sono entrata nella nebbia perché erano più le volte che morivo per raggiungere il vostro. Potrei anche fare così. Non è facile. Perché quelli ti beccano forse anche con gli arcieri. Potrei anche spaccarli con la magia. Anzi, in realtà mi posso mettere lo scudo e li spacco perché non mi fanno niente con lo scudo. Mi fanno un danno molto limitato. Ma questo perché non mi può aiutare? Perché non mi fanno niente con lo scudo. Trammila anime. Allora... Ricordo questi qua. Mi fanno niente a dare. Guarda, ammazzo questi. Guarda, ammazzo questi. Tra l'altro è molto più facile questo gioco perché hai tutte le cure che vuoi. Che hai, scusa? Tutte le cure che vuoi. Mentre... In Dark Souls, ad esempio, ho solamente le fiaschette contate. Ma vaffanculo, oh, non riesco. Perché hai le fiaschette contate? Perché non te le troppano? No, ce le ho mettere le fiaschette da ricaricare ad ogni parola. Ah... Ma hai detto che non mi prendevano? Guarda che ti ha preso quello davanti, non quello di sopra. No, quello sopra. Mi è arrivato da sopra. Ma veramente non ti va tutto di qua. Cioè, non droppi erbe queste cose qua per curarti? Oh... No, non c'è il fuoco amico per loro. Nemmeno tu con mezzo con mezzo. Ora... Ora... Ora che faccio? Ora faccio una cosa. Ma ti ho visto che mi fanno poco danno in confronto al primo... che era? Non mi fai niente con la magia. Non lo so. Più o meno quel giro a sto punto. Drogono. Ma pure quello la sopra è sceso. Ma pure quello la sopra è sceso. Quattino a mezzo a scudo. E' un attimo però. Vediamo se riesco a prenderli contro piedi. in quel senso. Sì. Allora conviene farli spostare. Il problema è che mi sono consumato tutta la magia. Ma va a baciare le cose per ieri d'arte. Ma arrivano fino a qua. Quindi prima c'è lui e poi c'è il boss. Il cavaliere nero. È veloce questo. È veloce? È veloce stai attento. È veloce? Ma ti faccio qualcosa? cosa con la magia? Non lo so. Ma c'è il coso. Non lo farò ammazzare. E se non avessi avuto lo scudo? Non mi credo che è morto, povero. No, non è morto. Se non avessi avuto quello scudo sarei deceduto. Dov'è il mio amico? Ehi, ehi. Ok. Sai che ti sei perso qualche ciccio? Ma più avanti ci sono dei cicci comunque. C'è qualcosa da prendere qua. Sembra di no. Questa è la parte che ho visto fare a te. Questo è difficile forse, no? Allora intanto... Potere della magia. E tu hai respinto, rilegato. Non mi piace vincere facile. Non mi piace vincere facile. No! Questa è la parte del gioco. È la mia classe, la magia. Allora... Io ne ho 41.000. Un attimo. Se no riscatto qualche animo. L'abbiamo detto. Uno. Due. Ne mancano 6.000. 6.000. Giusto? Ma perché piace intelligenza? Eh... Intelligenza... Aspetta, lo dico subito. Perché... A parte che mi aumenta gli slot. Ma ormai non hai raggiunto il massimo degli slot. No, credo che ci sia qualche altro slot. Non mi ricordo a quanto. Allora... Rettivo a far vedere. Ah, non mi fa vedere. Aumenta anche il PM. Oltre la memoria. Aumenta la magia che aumenta sia l'arma che... Aumenta il potere degli incantesimi e di conseguenza anche la mia arma. Perché è basata sulla magia. Non ti converebbe alzare la magia. Alzo tutte e due assieme. Ora non ti converebbe alzare la magia così. Allora potrei fare così. Però mi servono sempre le cose. Vi ho detto 6.000 giusto? Questa quanto sfrigiona? Mi faccio saperlo. C'è scritto. Eroe famoso... Sai quanto sfrigiona? Soldato antico era 2.000. Ce n'è uno solo. Vediamo. 1.000. 3.000 e siamo 4.000. 3.000 e siamo 4.000. Vediamo. 1.000. E' sempre raddoppiare. Dovrei fare... 1.000. 2.000. Potrei aumentare così. E poi mi alzo l'intelligenza. Che dici? Oppure potrei fare così. Oppure così. E poi la prossima mi alzo l'esistenza e l'intelligenza. Facciamo così. Tu praticamente ti sei fatta tutta vitalità. Resistenza e forza. E' più facile quella build da gestire. Perché se ti fai solo vitalità, resistenza e forza hai 3. No. Io devo fare 1, 2, 3, 4. Anche la fede perché ricordo di Ugo anche i miracoli. Aspetta che... Quanto vedo se con questo qua... Che anima era questa qua che abbiamo preso delle cavalieri? L'argento. L'argento. Se ti bevi la strega ti sblocca altri tantesimi. La strega era nella prigione. La strega era nel futuro che devi farti abbassare. Il ponticello. Devo trovare l'ultimo pezzo. Mi puoi vedere chi lo droppa? Ho uno dei cicci stanno. Eh ma mi puoi vedere quale? Ci sono altri due mi pare avanti. Ho uno o due. Ma è un casuale il droppa. Allora... Il parecantesimo. C'è Sputafuo. Arma di luce. Demone d'argento questo era. Questo migliora l'arma. L'arma della mano destra. Però dice con il catalizzatore della mano sinistra. Che qua è tipo... Ti metti la magia. Dello scudo e gli metti tutto il venabile. L'anima d'argento. L'anima d'argento. L'anima d'argento. Demone tempeste. Demone meticcio. All'anima demone falso re. Ok no. Non c'entra niente. Vabbè tanto a me serve solo il catalizzatore. Non lo so che prenderla questa qua. Ma non ho gli slot. Non mi conviene. Niente. Niente. Uh. Sono umano. Mi sono completamente dimenticato. Mi sono completamente dimenticato. Mi è in autore. A te. Non roρε TA. Non... Ma non sobre la modo. Mi sono anche negativo. Non ti lasso. Mi si Ricoh. Allo c'è. Un punto di fronte. Mi è nella roxe. D Helena. Tu fai la pagola. Sinistra, sinistra Dai, sinistra, dai, sinistra, dai Ma sbaglio, i simboli diventano sempre più lucenti Quelli simboli? Quelli dentro la chiesa, non erano così prima Che poi si stanno ammazzando i demoni Non ti sei mai accorto? Sono diventati più lucenti Guarda, pure il coso là sopra Proviamo questo qua, se no poi vado Ci sono le mani Ma poi dopo che ammazzi tutti questi mostri C'è un mega boss Tipo come si faceva in Bloodborne Dovresti immaginarlo Che è il primo boss Quello là è male in persona No Velocità Aspetta un attimo Questi come si chiamano? Ma attento Ma lo spacco Vieni qua, vieni Oh Vieni o no? Allora Non vuoi farti vedere? Sono senza scuola Pure le frecce mi lancia il tizio là sotto Gli si sta ritenerando la vita Sei scarso Più o meno Non l'avevo vista sti anni Mi sa che Guarda, quello è noto prima di Che cosa? Niente, niente Aspetta che è me Questo è con lo scudo Lo scudo a torre Vieni qua Oh Oh È svanito L'effetto Oh Che cazzo Armatura danneggiata Ma che cazzo fa questo? Mi distrugge le armature Guarda là È tutto distrutto Ma questi qua Ti danneggiano tutti i cazzi Allora qua dice Vabbè Sì è un po' una scuola di merda Di quelli là Cioè Ho l'arma E' già distrutta Ormai ammazza con la cravina Ma questi qua non ritornano Dopo che li ammazzi Sono tipo vivi Che sono? Però Non so se ce la farò la spada Oh Non gli fai niente Ti devi riparare la spada Devi? Riparare la spada Eh Solo qualcosa Ti posso riparare Senti Sai che faccio? Ah Sei agile Micchia Che è quanto ti cacciava questo? Guarda quanti anime hai Minchia Quanti cazzo non vanno troppo Vai Vai a coso Dove vai? Non andare avanti No volevo vedere se c'era qualche cosa da qui No ma torna indietro Meno male che non ci sono dopo questi tizi Vabbè se noi era pure di far male le anime Scusa Vabbè magari tende troppa mano Ok Big money Big money Big money Big money Big money Big money Dov'è la tizia? Qua Scusa Vedo a quanto scattano Slot magia Demon Soul Allora No qua non lo spiego No qua non lo spiego Non lo spiego No qua non lo spiego Oh No qua non lo spiego allora qua io ho 5 slot giusto? il prossimo è a 40 6 slot e poi non ce ne sono più sai che non penso perché poi comunque le altre magie che mi interessano dovrei dovrei praticamente aspetta che vedo un attimino che praticamente impara incantesimo ormonizzo incantesimo però c'ho l'anello ma non mi conviene usarlo allora c'è pala di poco che ne prende due raggio dell'anima uno e altri due la guardia se ne prendo un altro potrei semplicemente prendere secondo me al momento è meglio se ti contendri su altro aspetta che devo vedere cosa mi converrebbe eventualmente protezione no perché c'ho quella molto più potente ci sarebbe nube venenose ma non ho capito se vale la pena questa è interessante però c'è solo due c'è due slot sputa fuoco questa non so la validità e prendi la strega mi dà altre magie e alcune richiedono la stessa anima e ti richiede questo quindi vedi tu comunque per ora a me va bene così dai quindi mi alzo la magia e via certo mi aumenta anche il mana però compensa il fatto che faccio più danno quindi servono meno serve meno la cerca facciamo quante ne servono altre 8k circa di più 9k perché sono 18 devo fare delle anime poi magari me lo metto qua l'esistenza per aumentare un po' o me lo sparo tutto in magia abbiamo letto 8 9 questo qua era 4 4 più o meno sarà un altro di questo e poi e 4 8 no 6k e questo qua e perché scusa si era messo prima aspetta vediamo se ne restano pochi abbiamo detto abbiamo detto magia guarda per poco potrei farmarli ma poi se muoio quanto te ne richiede uno mille mille intanto ti alzi e poi vedi gli scheri prima alziamo la magia di due punti e poi mi alzo la resistenza o mi alzo sempre la magia non lo so sai non so se è arrivata a questo punto mi conviene alzare la resistenza oppure no non lo so tu con la stamina ti trovi bene faccio due tre colpi e poi mi ricarico ok pompiamo la magia 50 e poi ci facciamo il pensiero allora intanto facciamo conferma ah ma devo sistemare pure le cose e ci sono aspetta che vedo quanti ne servono 4k e li faccio agli scheletri praticamente ma da questo e quanto ci metti? no non molto sarete pure un gran cazzatore di demoni ma non vuoi provare ad andare avanti là il re è difeso dalle anime nere di grandi cavalieri piano piano sputa fuoco penso che te li fai ci sono gli arciari là davanti riconoscetevi un po' tosto non lo so non riesco a farmi riconoscetevi e non ti conviene metterti l'anello che ti danno più anime mi pare che c'era chi sono gli spettini? quelli rossi mi pare sono neri dici neri ma sono rossi non ce l'hai? no che vuoi fare di sì? ve ho detto devo fare più di 4k ok ma mi sto confondendo con qualche altro diciamo che ora con questo livello di potere dovrei farmeli molto più velocemente no 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 ok no Quanto abbiamo detto che servivano? Quattro C'ho messo una vita così Oh 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 Cazzo ci sono incazzati Gli può fare una lampada Porca puttana È che ho sbagliato ad aggrarli tutte e due Ma bisogna mai prenderli sotto campo a questi qua Che tre colpi alla fine servono Eccolo là Andiamo piano piano Porca Troia E va bene No ma quando arrivano in due sono M***e ma lei dica magia Con un colpo li fai schiattare E dov'è il coso? Devo bandare in giro Oh ma perché? Vaffanculo Guarda l'intorno Madonna non mi dirli ho persi Ma hai rotto il cazzo va Ma Ma guarda che cazzo Ha questo sistema di puntamento di merda sto gioco Conto di tempo per il level up Non lo ricordo più Aspetta che lo vediamo qua Aspetta va Lasciane un attimo A cacchi troppo Mille circa Ti devi fare un altro viaggetto Ma scusa Non lo ricordo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, o mi alzo questo, o mi spacco qua con la... Grazie a tutti. 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 Di gioco di gioco di gioco di merda. Grazie a tutti. 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 non mi ricordo quanti, ma non lo so tu pensa appena potenzio la spada, cazzo fa, buchi anzi forse dovrei andare là per potenziarmi la spada invece di fare questo pezzo e me lo faccio dopo quando faccio i buchi questo è un grande disco oh 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 porca troia tutte e due sono oh quello sei andato? no non è lo tu che cazzo? la lancia del pugnale nooo porca troia sette mila animi oh vorrei fare avanti e indietro mi fermo un altro livello oh oh e mi fermo pure le cose le aspetta che distruggo ste cose perchè mi intracciano solamente alt porezzi o ma 18k mi serve ora quello scende o sbaglio ma è sceso o o o o o o o o o vieni qua ti sfido qua qua sopra vieni e se non avessi questo scudo io l'ho fatto senza scudo tu hai altre capacità che io non ho fatto perché ho puntato sulla magia normale ognuno punta sulla sua caratteristica il mago è debole perché non ha resistenza ma casca sto coso cosa c'è qua e lì c'è una continuazione che qua però non è che c'è qualche trappola no c'è solo da raccogliere gambari e il cavaliere ma che do ma si può scendere veloci dalle scale osa dire vieni lì cerchio vieni premio vabbè in sera l'ho sempre fatto lento attento guarda chi c'è questo è uno scontro dall'ultima magia incredibile ma non è vero ma scusa ma ha sputato il fuoco non l'ha ucciso come abilinare voi e manco l'ha ucciso se becca a me mi spacca un'altra botta un'altra botticella posso anche mettere l'anello protezione fuoco non ti sento metti l'anello per la protezione cioè ma mi becca per forza quando passo devi stare attento forse devo farlo sparare e poi fatti lo scudo e metti l'anello perché se in caso ti becca almeno non ti sciotta il problema è che devo prendere le cose là ma almeno se ti prende non ti sciotta perché devo vedere se c'è il pezzo minchia devo rifarmi se no tutto sto pezzo il panello odoroso lo possiamo togliere questo arco bianco non me l'ho reso conto possiamo buttare certo è sempre meglio del mio non è abbastanza la destrazza pure questa spada perforante via avrei dovuto prendere i vestiti del cuoco fatti lo scudo eh ma sto scudo sta magia non ti aiuta è solo per gli attacchi fisici da dove le vedo le magie qua la resistenza al fuoco eccolo là non ce l'ho ma la posso lanciare no non è armonizzata no questa qua dice riducendo i danni subiti può darsi che funzioni anche ti posso provare basta basta vedi che pena di cicci perché non sputa il fuoco forse è qua sotto l'altro ciccio potrei sbagliarmi ma mi ricordo un ciccio da qualche parte forse ma sicuramente muoio se vado là ma questo trago poi non se ne va in qualche modo se ne va dall'altro lato ma non so se torna se tu torni qua in genere fanno così questi stransi perché non provi ad ammazzarlo tu hai una magia ma dove ci riesci ah perché si può uccidere il drago là se no proprio avanti aspetta potrei provare ma non mi prende qua no ce la faccio a boccarmi aspetta devo solo mirare perché la mira è più o meno qua ma se vai da un'altra parte lo lagheri come? se vai da un'altra parte lo puoi targettare lo puoi targettare se vai da un'altra parte aspetta voglio vedere troppo in alto non lo raggiunge proprio il colpo non è possibile ma mi prende qua? no ma si è spostato forse posso tornare non è possibile c'è neanche un pezzo non ho niente proprio controllare tu hai solo l'ora che vedi su internet è spento il pc non c'è neanche un attimo ci volete accendere non lo controlla il cellulare ma questo chi è? scusa il tuo amico il tuo amico che hai salvato ma lo uccide così certo che lo uccide aspetta ma dobbiamo sfidarlo sto coso non te ne vai perché lo sta ammazzando oppure non ce la fa la vita e ma come si fa? si niente come si fa o vai sotto nel portico cerchi di triggerarlo mi ha ucciso porco giuda non è aperta la scorcia poi dove sta scorcia c'è una porticina che puoi aprire che è quella che in chiare i fatti tutti non c'ho fantasia più non lo fa minchia scompare subito però serve un cazzo non c'è più il caso non c'è più 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 ma c'è più non c'è più non c'è più ma c'è più non c'è più non c'è più per farmi aggiungere le pippe quello là c'è c'è miscio ah non sei morto vedi che fa un colpo tipo e poi torna indietro non so come lo fa però io quando sfammavo ogni volta mi facevo quel colpo ci sarà una tempistica forse quando tu pari e fai colpo colpo non lo so quello là è che poi crolla questo qua si ma c'è un lato dove non crolla e qual è? mi ricordo leggi l'altro lato c'è il pilastro c'è trave vabbè guarda questo lo voglio ammazzare con le paddazze di fuoco no ma cazzo ho scivolato dici che ce la faccio che io poi non sono più salito sbagliato nonostante tutto fa male eccolo qua quanto dell'ufficiale ora torniamo indietro ora torniamo indietro si deve attivare si deve attivare qualcosa ma mi siamo perso ma allora sono scemo non l'avevo fatto o forse l'avevo fatto ma non sono salito perché avevo paura di crepare l'avevo fatto o forse l'avevo fatto da dove cazzo l'hanno messo queste robe io non le posso usare o Alla prossima guarda se non c'è qualcosa sotto no ah si si guarda che c'è qua tu la sei a fare la capoletta? qui sotto cosa c'è? il bel dirù ehi in quel villaggio 2.000 anime vuol stare la pietra allora devo andare abbiamo detto ma se lo apro un'altra volta o si può già ci sono nemici là in quella zona i cani i cani e poi ciccione possiamo provare a farlo non ho sbellato ben tornato non tenete sai che forse nell'originale c'era solamente il cappello e passava quello dobbiamo andare qua al quartiere dei cavalieri giusto? praticamente quello che c'è è il falso re perché il vero re è nella chiesa non è affrontato tutto il re me l'ho spoilerato perché ti avevo visto entrare a giocare quello è il re antico comunque si chiama il falso re vedi fa un passino all'indievo forse quando colpisce lo scudo boh Grazie a tutti. Mi piace il mio corpo l'amajibu. Non è malaccio, non è perché più uso il fuoco. Ah, beh non sto male. Ma non mi riconosce? No. Qui la tappo alla spalla. Mi sta? Ho fatto un volo. Ti converrebbe a metterti l'altro. Arrivo. Ti è arrivata una gometa in faccia. Minchia. Pezzo di merda. Addirittura sono peso. Minchia. Perché c'ho una marea di ste robe. Queste intanto che non mi servono. Già solo quelle mi hanno liberato. Ma c'era qualche arma che avevo preso? No. Poi poso anche l'armatura. Questa era la strega. No. Non c'è altro qua. Tutto qua. Voglio questo cappello. Voi. Voi siete qui per salvarmi. Oh, sì. Sono qui per salvarti. Grazie. No. Sto bene. Ma non posso avere il vestitino da mago? Devo ammazzare male. Ma se ammazzo questa mi posso vedere il cappello? Il cappello se non sbaglio lo trovo in qualche parte. Non mi dico. Allora, torniamo al Nexus. Quella leva è la prima cosa. Eh? Quella leva, dico, non si può interagire. No, perché era questa qua. Ah, ma hai parlato con il principe? Dopo che ha ammazzato il boss? Non mi ricordo. Ma di se lo trovi qua? In genere gira di qua. Mi ricordo se devi correre qua o un Nexus. Mi ha regalato delle pietre. Perché ti regala la chiave per andare dal... che ti consiglio di non sfidare. Quello la è il coso. Sì. Ma lo spacco. Eccolo qua. No, no, no. L'ospidale perché ti rovina la cosa del mondo e tutto il resto. Non ne vale la pena. No, no. Ti dà delle cose fighe, però tu non le vuole anche dubaggiare. Non mi ricordo se è qua che gironzolava. No. Non qua dentro. Era qua nelle scale. Proprio scendevano. No. Ma benissimo qua in dintor. Non va nel nexus. Non hai la dentro. Non va nel nexus. Non hai la dentro. Sempre là dietro è la strega. Noi ci sono i maghi. No, non è qua, hai visto? Non è seduto là. Quindi è da qualche parte voletaria. Sì, perché la camminava da quelle parti. Ma io ci ho parlato dopo che l'ho aiutato e mi ha dato una pietra. Sì, ma non hai sconfitto il bot. Dopo che hai sconfitto l'ultima volta e non glielo hai parlato. Nell'angolino. Di là. Mi attirano il sospetto. Questa è crazy. Non preferite la magia del grande saggio Fremio. Dunque volete per me sarebbe un onore insegnare a uno come voi. No. Ne siete certi. Che succede? Non è che non mi parla più fake. Maledici arma. È l'esatto opposto. Di tua minchia train slot. Questa deve essere potente. Incantesimo dell'anima del demone trapassatore. Uh. Tempesta di fuoco. No. Anima del demone trago. Forse l'ho già usata per... Mh. Questa è bella se c'è in tanti nemici ma mi sa che è migliore la palla. Incendio. Questa ce l'ho. Come fa l'arma? No. Ce l'ho... Dico... L'anima. È una specie di... Di fiammata. Però deve essere molto vicino. Non mi piace. L'unico che mi piacerebbe è questo. Però... A parte vuole te sdotto. Dovrei sacrificare qualcosa. Ma cosa non l'hai salvato? Ah forse non si è andato avanti. Ma è questo qua quello che era là. No. Il principe di Boletaria. Questo non è il principe di Boletaria. Ma quello dal drago chi era? Questo qua? Sì. Solo che il drago mi uccide con una fiammata. Voi a fare l'altro boss così questo qua non l'ammazzo. Ma praticamente si salgo le scale e poi eviti il drago? O lo devi uccidere questo drago? Non ho capito? No. È opzionale il drago. Perché ti droppa? Non lo so non riesco ammazzato. Cioè ma dovresti ammazzare dalla distanza? Ho bisogno di tipo 500.000 frecce. Per ammazzare. Vabbè salviamo. Vabbè salviamo. Per ammazzare. Per ammazzare. Allora. più o meno è lo stesso valore solo 25 tu quante ore c'hai?